Prendete una fava, lanciate la terra in un giardino pubblico. Atterreranno due piccioni per contendersela. Lanciate ora una seconda fava. Attirerà altri due piccioni. Aggiungendo due fave, si avranno altri quattro piccioni. Per un totale di otto piccioni a terra, per quattro fave. A questo punto lanciate tre nuove fave. Alzando ulteriormente la posta, otterrete altri sei piccioni. Proseguite con cinque, otto, tredici, ventuno fave. Riuscirete a interessare progressivamente dieci, sedici, ventisei, e quarantadue nuove piccioni. La sequenza di fave gettate a terra è stata detta di fibonacci. Quella di piccioni ammassati, di colombacci. La concentrazione di corpi volatili ottenuta è tuttora materia di studio della fisica. Riuscirete a cercare di stagione. Riuscirete a cercare di interna. Riuscirete a cercare di caratteristiche di conoscenza. Grazie a tutti.